Oltre 300 i partecipanti alla seconda serata dei Le Fonti Awards dedicata al lavoro e all'innovazione delle imprese che creano lavoro. Giovedì 31 maggio a Palazzo Mezzanotte nella splendida cornice di Borsa Italiana si è svolta la giornata delle fonti day and night dedicata al mercato del lavoro. Dalla mattina con le Char Forum, capitale umano tra smart working e digital innovation, fino alla sera con i Le Fonti Employment Awards e i Le Fonti Innovation and Leadership Awards. Categoria avvocato dell'anno, quindi indipendentemente dalla materia, noi questa sera si parla di lavoro, ma indipendentemente dalla materia ogni anno Le Fonti sceglie l'avvocato dell'anno. È un premio ambitissimo e allora parto dalla motivazione. Per l'autorevorezza del pensiero giuridico sul mercato del lavoro alla luce della gig economy, industria 4.0 e nuove relazioni industriali. Lo contraddistingue un alto tasso di innovazione nella professione ma anche nelle proposte di legge che riflettono il nuovo paradigma culturale e nei progetti di responsabilità sociale. Avvocato dell'anno 2018, Francesco Rotondi di Lab Law. Venga avvocato! Venga avvocato! Complimenti! Siamo in compagnia dell'avvocato Francesco Rotondi, founding partner dello studio legale Lab Law Law. Buonasera avvocato! Buonasera! È una doppia premiazione per lo studio ai Le Fonti Awards del 2018, la prima per lei avvocato come avvocato dell'anno e la seconda come studio dell'anno nelle ristrutturazioni del diritto del lavoro e le chiedo un commento per questo doppio riconoscimento. Facile un commento in questo momento, è un bellissimo momento ed è un bellissimo riconoscimento perché si premiano sia il lavoro di squadra sia il lavoro individuale che in realtà è sempre frutto di un lavoro di squadra. Il premio dello studio nelle operazioni di strutturazione è particolarmente interessante, molto apprezzato perché questi ultimi anni sono stati caratterizzati proprio da tante operazioni straordinarie e che hanno accompagnato momenti di grande delicatezza sia nel mercato del lavoro sia nel mercato imprenditoriale e noi siamo stati sicuramente operativi ed attori principali in questo campo. Il lavoro sta cambiando e con esso anche le leggi che lo regolamentano e le chiedo come vede il quadro giuridico che coglierà e disciplinerà le prestazioni di lavoro delle generazioni future. Questo è un argomento molto delicato, io pur facendo questa professione non credo che il tema principale sia la norma, non credo che il lavoro si produca attraverso l'elaborazione di norme o lo si modifichi nella sua sostanza attraverso le norme. Le norme, come ci insegnano i principi generali del diritto, servono per verificare quello che sta accadendo e quindi una volta che si verifica questo lo si chiude all'interno di un regolamento. Quello che sta accadendo oggi è un cambiamento continuo e quindi credo che la grande attenzione del legislatore potrà essere quella di avere sempre più cosiddette norme aperte che consentano alla realtà di modificare in corsa anche quelle situazioni che possono essere regolamentate attraverso un contratto. Mi spiego meglio, non è più immaginabile che un istituto giuridico possa durare vent'anni. Ci deve essere una grande attenzione alla modificazione in corsa. Se non si ha la possibilità di modificarlo in corsa allora la norma principale deve essere una cosiddetta norma aperta che consente alle parti sociali, nel campo mio, che è quello del diritto del lavoro, di intervenire in corsa e modificare in seguito e a seconda dell'esigenza. Partendo da una visione ampia delle prospettive del diritto del lavoro e del contratto di lavoro individuale, lei ha sottoposto un progetto di legge sui contratti territoriali. Le chiedo se ci può illustrare i punti salienti e anche la razio di questo progetto? Il punto saliente è la presa di coscienza della esistenza delle disuguaglianze. Noi riteniamo che il principio di uguaglianza sia un principio universale, ma lo interpretiamo male. Intendiamo a qualsiasi tipo di situazione attribuire una determinata norma, regolamento o principio. In realtà non è così. Il territorio, l'economia, i servizi, le condizioni climatiche, le condizioni culturali rappresentano sicuramente degli elementi di diversificazione, di diversità, di differenza. Ora, trascinando il tutto all'interno del diritto del lavoro e nello specifico per quel che tiene le condizioni retributive, io credo che si debba prendere atto della differenza di quello che è il costo della vita nei vari territori italiani. Non è una grandissima novità. Questo è già presente in Germania, in America. In America ci sono delle condizioni che si riferiscono da stato a stato, che si riferiscono dal tipo di impresa ad altra impresa, dal numero di dipendenti che ha un'impresa piuttosto che un'altra. e a seconda di queste differenze vengono determinati i cosiddetti minimi contrattuali. Ecco, la declinazione è proprio quella di immaginare tre o quattro elementi che devono essere soddisfatti e poi lasciare al territorio la declinazione invece di quelle che sono le esigenze del territorio che non possono essere interpretate se non dalle parti sociali presenti in quel luogo. Bene Avvocato, la ringrazio per il suo contributo e di nuovo complimenti. Grazie a voi.